Questa sera a San Siro abbiamo un problema. L'arbitro e i guardaline non si sono presentati per il match Milan vs Napoli. La partita si giocherà lo stesso, ma sicuramente ci sarà qualcuno che si farà male. Sarà una partita senza regole, senza falli, senza cartellini e senza fuorigioco. Vedremo come andrà a finire. Questa è una partita che rischia di trasformarsi in una mega rissa. Alla fine potrebbe anche essere divertente. Potte da orbi. Chi l'ha detto che bisogna prendersi sempre sul serio? Aiuto! Il casino in aria! Il casino no! Il casino! Aiuto aiuto! Io sono il Napoli e Niki è? Il Milan. Sei pronto Niki per la sfida? Sì. C'è il fischio dell'arbitro comincia dunque l'incontro. Possiamo iniziare Niki scende in campo. Divisa bianca al Milan di Niki diviso azzurra. Il Napoli di play mojito. Per fortuna che non devo facciare io quello a non fare i falli. Non fare i falli, eh? Non fare i falli. In posizione centrale. L'attacco sulla spalla di Romero Lukaku. Ma che fai? Possesso palla? Ma vai verso la mia porta. No! Ecco. Grazie della palla. No! Ok. Passo, passo, passo. Scarto con Lukaku. Lukaku! Tira Lukaku! Eh! Magname troppo forte. Dalla bandierina Politano. La mette in mezzo. C'è le magname troppo forte per essere battuta. Ma qua l'è morto. Ma cosa fa lì per terra? C'è un uomo a terra! C'è un uomo a terra! Un uomo a terra. Ma dove vai? È fuori! No! Che volo! Ok. Un tiro! Un uomo a terra! Ecco, ma sei caduto anche te! Cos'è? Chi è? Questo qui è il mister! Ragazzi, ma era il mister del Napoli o del Milan? Del Napoli. Scrivetelo in un commento perché non lo so. Uomo a terra! Uomo a terra! Sì, vero? L'ho lanci solo fuori. Niki, non ti sei ancora avvicinato alla mia porta, ma stai giocando un po' maluccio, eh? Hai paura? Hai paura? Era ironica la mia frase. Oh! Bossa sicura! Sparatora di Meret! Ok. Calcio d'angolo mio. Sì, ma dove tiri? In porta. Va direttamente in area. Oh! Stava verso la rigola. Sì, infatti. Non riesci a prendermi, non riesci a prendermi. Ti ho preso, purtroppo. Ammiro un compagno. Aiuto! Tira! No! Non ci credo! Ha spierato il palo. No, era dentro. Questo era dentro. Ma cosa fa? Ehi! Non ti ho fatto nulla! No! No, vera! Si sopra il portiere. Se prova un tiro a porta sicura a questo. Attenzione, errore grave. Stai prestando alla grande? Occhio al pallone. Era fuori gioco! Ma non c'è il fuori gioco. Non c'è l'arbitro. Ma è lì l'arbitro? Vabbè. No, non c'è. Hanno detto che non c'era. Vabbè. C'è? Sì! E però non fa il suo lavoro. È un volontariato. Vedi? È là. È un volontariato che non sa fare il suo lavoro. Ehi, no! C'è un muro invisibile nella tua porta. E perché forse tieni il cerchio schiacciato troppo a tempo. Devi sommare. Sì, vabbè. Prima lo ho veramente schiacciato. Non riuscivo a fare i gol. Sta facendo fatica a correre. Deve sentire parecchio dolore. Non sembra in condizione di continuare. Ok! Pum! No! Non confusere che manca di poco lo specchio della porta. Vabbè, sei morto te invece che io. Uomo a terra! Aspetta, ma cos'ha? Ehi, stai bene amico? Si è rialzato? Bene. Sì, ma ci erano tutti affortunati. Sembra di sentire ancora della botta di prima. Si vede che non è fluido nella corsa. Ma, ma... Come è successo? Occhio alle ao. O le ao non me lo devi toccare. Ma sono tutti a terra. Ok, io vado. Attenzione, valzo al portiere. Cosa fa il portiere in mezzo al campo? Fermatelo! Fermate questo portiere! Ma fermatelo! Corri, corri! Fermalo! 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 Fermo il portiere! Dai! E' senza porta! Tira! Tira, tira, tira! Non hanno il portiere! Tira! Ancora lui! Ecco! Ancora il portiere! Fermatelo! Grande recupero difensivo! Situazione complicata! Aiuto! Problemi fisici piuttosto evidenti per lui! Attenzione, non c'è il portiere! Attenzione! 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 Tira! No! In balza! Lo prende! E' senza palla! Ti fa un gol! Vado anch'io col portiere! No! Volevo andare col portiere! E' balza nel portiere! No! E' ballo! Tu mi hai giocato le out! Fine primo tempo! Dobbiamo cambiare i giocatori! Allora qua per vincere bisogna picchiare più forte! Sì! Non si vince! Sei pronta a una lotta? Sì! Dai! Vince chi fa più falli allora! Si scende in campo per il secondo tempo! Milan! Napoli! Squadra! Il nuovo in campo! Si ricomincia sul risultato di 0 a 0! Boom! Vai! 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 La bocca! La bocca! La bocca! E' buttato giù! Qui sembra più serio del previsto! Ha difficoltà a correre! Vai! Vai! Buttalo giù! Apre sulle ao! Ma vabbè! Dammi la palla! Dammi la palla! Vai! Corri! Corri! No! Corri! Ed ecco abbiamo buongiorno! No! Esci! Vai! La bocca! Viene buttato giù la bocca! Ancora viene buttato giù un altro difensore! Corro! No! No! Cosa fanno? Aiuto! 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 Viene buttato giù! Ma cosa fai? Ma ci balla il portiere! Autogol! Autogol! Troppo forte! Ma chi è che ha fatto autogol? Non capisco più niente! Ma no! Che scemo! Ma come... Pensavo che quello era il tuo portiere! Ma no! Ma non capisco perché ho fatto quella cosa! Scappavo perché avevo paura che mi impicchiavi! Devo recuperare! Devo recuperare! Ok! Andiamo a recuperare! Andiamo a recuperare! Oh no! Andiamo con Lukaku! Ma cosa? Come fai? Ah! Tu crossi! Non sembra in condizione di continuare! Fermatelo! Ok! No! Tu non hai capito! Tu non hai capito che erano i dei toccheri giocatori! Ecco! Eccolo Lukaku! Fortissimo Lukaku! Terra Lukaku! No! Parto il portiere! Parto il portiere! Ma dove va? Fermatelo! Buttatelo giù! Buttatelo giù! Parto il portiere! Ma questo è ravi! Parto il portiere! No! Buttatelo giù! No! Anch'io voglio andare col portiere! Io te lo fermo il portiere! No! Non è vero! No! Io te lo fermo il portiere! Dai! Vai! No! 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 Non c'era il portiere! Andiamo! Andiamo! Ma hai buttato giù! È molto traffico e si fatica a trovare spazio! Aiuto! Via! Non vogliamo quelli come te! Aiuto! No! Che casino in area! Che casino! Che casino! Aiuto! 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 Grazie! Ancora lui prende la palla! No! Lì! No! Eh sì no! No! Il gioco è una golla! No! Sembra che non ce la faccia! Mari! Tira! Passa! 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 Tira! Venga! 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 Non è gol! Ma vediamo se c'è il VAR! Il replay! Voglio vedere il replay! Ti hanno regalato un gol! Perché io l'ho parata! Voglio vedere il replay! Voglio vedere il replay! Ma come è possibile? Venga entro! Come è gol! È gol! Ma dai! Palla che ha superato la linea di volta come ci voltano queste immagini! Tu è gol! Questione di centimetri! Era praticamente impossibile stabilirlo con certezza a velocità normale! 2 a 0 per il Milan! Il Napoli è in sofferenza ma cercherà di recuperare! No! Fermateli! No! Fuori di Ocaa! Aiuto! Vai! 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 Mamma mia! Via! No! Ok! Il Napoli si avvicina alla porta avversaria! Il mio indifico da Lukakuli al centro! Tira! 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 Vada! Vada col fortiere! Porta Napoli! Forza Napoli! Non vada col fortiere! Ok! Passa! Tira! Vada! Vada! Andiamo giunti in quattro terriere del bensero! Vada! Vada col fortiere! Dai! Forza Napoli! Forza Napoli sempre! Ah! Siamo all'84esimo e il Napoli è sotto di due gol! Forza il fortiere! No! Forza il fortiere! 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 Prendila! Fermatelo! Forza il fortiere! No! Il fortiere! Il fortiere! Il fortiere, signori! No! 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 Sì! 3 a 0! No! È finita! È finita! Per il Napoli è finita! Guardate che gol! Goal! Può far gola lì! E c'è la rete che di fatto fa partire i titoli di coda del match! Ho tre minuti per fare tre gol! Eh vabbè! Andiamo! Due minuti! Devo fare tre gol in due minuti! Vai! No! Ma andiamo imbattibile! No! Ma questo Magnan le prende tutte! Oh! Ultimo tentativo! Ma non pensavo fossi così bravo a FIFA! Niki! Ok! No! Mi è morto il giocatore! Oh! No! Mi è morto il giocatore! Lukaku! Quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il punteggio! Magari ci danno qualche minuto di recupero e riesco a pareggiare! Dai corri! Reinders! Ma cosa succede? Aiuto! No! Ah! Finisce qui! Ottimo risultato! Ho vinto! Ho vinto! Vince Niki! Ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale e vi suggerisco di guardare anche questo! Ciao! 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 Ciao a tutti!